Un cordiale saluto a tutti amici da Stefano Ghetti. Nei prossimi giorni l'Italia continuerà a fare i conti con un vortice di bassa pressione che manterrà condizioni di tempo fortemente instabile, praticamente un po' su tutte le regioni. Non vivremo alcuni giorni di pioggia continua perché in questa fase di maltempo avremo comunque le dovute pause che si distribuiranno in modo molto irregolare. Andiamo a vedere le previsioni, infatti il tempo sarà già compromesso praticamente su tutta l'Italia, piogge sparse, tornerà forse anche qualche temporale all'estremo sud, da segnalare anche la neve che comincerà ad alzarsi di quota perché le temperature sono previste in aumento sotto l'incalzare dei venti di Scirocco. Infatti se le andiamo a vedere non saranno più particolarmente rigide come è successo nei giorni scorsi, dunque si attenua di nuovo questa fase invernale, torneremo a vivere una fase che avrà a che fare forse più con l'autunno di nuovo che con l'inverno. Per quanto riguarda le successive 24-48 ore ancora tempo molto instabile, ombrelli rigorosamente a portata di mano, attenzione alla neve che continuerà a cadere comunque in maniera abbastanza importante sulle Alpi e forse ancora qualche nevicata a quote medio-alte sull'Appennino più settentrionale. Per adesso è tutto amici, grazie per essere stati con noi e a più tardi.